Sento una pezza di bruciata Ma è possibile fare un fio così deficiente? Ma con chi ce l'hai? Tu ne pigli sempre con quell'anima candida L'anima candida, l'anima del mortaggio sua L'ho visto mai come una donna Deve fare pure mezzo profilo Ma che dici? Sono un bambino Un bambino, c'ha 18 anni Se deve fare questi scherzi stronzi al papà Aiuta! Oddio mamma! Un'altra volta Che è successo? Nonno, che ti senti male? Un'altra volta Un'altra volta Un'altra volta